la gente sono al leader e vi faccio vedere le offerte che ci sono sinceramente non volevo farlo ma c'erano delle cose che mi piacevano c'è la patina esterno, la cosa di giardinaggio, questa non è per niente male 3 euro, ho preso una scossa mi piaceva un po' questo tappeto qua 1,50 x 80 all'esterno, non vedete molto male, ci sono due fantasie le lucine, un po' di balcone o terrazzo guarda, questa roba qua per piantare dentro non è per niente male, è come 5 euro questa è un giardino guarda, si possono mettere anche nei vasi filtro e tessuto io sono arrivata per prendere la terra questa qua frigidrice ad aria a 34 a 40 carini questi pantaloni quanto servono stra trasparenti pantaloni corti bello il tessuto bianco pantaloni corti mamma mia che sei qua tipo effetto oh no, grazie carine queste sandaline sono carine a 11 questa roba qua a 7 mutande e boxer da uomo a 5 magliette pantaloni questi qua sono carini da uomo sono molto carini a 9 euro corace di acqua a 2,49 euro questi qua sono da campeggio copiaio 5 euro questi qua a 17 a 15 vedete io voglio mettermi quanto è grande non ho la tenda 3 metri per per 2 guarda viene con tutto con 15 euro devo mettere la tenda fuori però la casa non è mia perché la lascio alla proprietà le posso annunire di dio questa con 15 euro mi risolvo un problema chiederò chiederò provo da campeggio lascio il carrello con un secondo guarda per stirare questo qua per il bagno questo qua ogni tanto li tirano fuori per il bagno toalje vediamo per il bagno invece 2 costi invece 2 auto euro macchinetta 20 non lo so sono ancora decisa buco qualche cosa a portare le unghie fa il pedicure manicure tenda da bagno doccia mi si è rotto il tubetto della doccia guarda il zanzaliere così qua 22 euro io ne ho comprata l'altro giorno che era un'offerta qua a Lide l'ho pagata 2 euro in qualcosa l'ho già montata quando arrivo a casa vi faccio vedere infatti 3 euro guarda si monta facilmente se non riuscite io ce la faccio comunque funzionale ne vale la pena invece questa con la tenda più che io vuole guarda questi qua io avevo comprato l'anno scorso ah guarda è ottima ottimo acquisto questo qua io ne ho due a casa ottimo acquisto questo qua mi vale la pena allora roba da manuale però da gente che sa guarda kit emergenza per macchina utile questo per la vallamacchina guarda il kit è la bicicletta tutta attrezzatura per la bici prova per boccia e lo lascio per voi carini sicchierini carini molto carini a 4 euro per far la pasta attrezzatura tappettino quante grande vediamo e il tamanho non vedo perché non scrivono chiaro quanti metri sono acqua 80 con 750 quanto costa 20 euro ci abbiamo zanzariele zanzariele perché questo qua è il periodo abbiamo davano per fare il massaggio ah guarda venderò il ferro da stiro da qua costa si è sperato che questa qua la vaporella a 21 euro c'è il ferro da stiro che costa 13 euro e noi cosa facciamo non lo prendiamo perché ho bisogno di fare il ferro da stiro ragazzi c'è una montagna di cose volevo prendere una buona marca però non conosco questa qua del del non la conosco la proverò insieme adesso vado a chiedere per la tela che pensas in esto è un un toldo e sono 2 metri per 3 che hago lo compro o spero che mi dices se sono riuscita a vedere l'ho montata da sola in niente in 10 minuti ho messo la colla non mi cade il telefono è notte probabilmente non si vede meglio magari si vede è facile belli se vi piace il video lasciate un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità buonanotte